Cari quaddisti eccoci nel box d'Inquad e vediamo Tony Sousa Borges Buongiorno, intervista internazionale Deve, deve caro Tony, it's good Come va? E tu? E te? Si va bene, il sole, il vento, il gazebo via, tutto buono Costumino, spiaggia, mare Grande Tony, ottimo tempo nelle cronometrate Grande Andrea Cesari che stavano parlando della trazione delle gomme, dell'assetto dei mezzi Dei popcorn, della spiaggia Le box di Andrea, le televisioni, i popcorn Tutti gli argomenti di un inizio gara, di un pre-gara Caglia che fai massacra Le manche fai mangiare Va bene, tutto ok E questi ragazzi tra 30 minuti entreranno in pista per la loro gara 1 di questo appuntamento dell'Europeo All'una e? Un'ora e mezza Ah, tra un'ora e un quarto, via Un'ora e un quarto 30 minuti Cesari si era già preoccupato Vediamo anche la ragazza di Tony Sousa Borgia Che lo segue sempre in tutte le gare E vediamo i settaggi Praticamente, tecnicamente, vi ricapitoliamo la discussione tra i due piloti I piloti lamentano per questa mattina un calo della trazione dei mezzi rispetto alla giornata di ieri Perché vi ricordiamo che nell'Europeo loro fanno anche 30 minuti di warm up E allora i team si stanno prodigando per cercare di variare le regolazioni del mezzo E garantire ai piloti la stessa trazione che avevano ieri nelle cronometrate Quindi stanno andando sicuramente a variare le tarature degli ammortizzatori E nell'eventualità anche la scelta della migliore tipologia di gomma Per quanto riguarda il nuovo stato della pista Grande Andrea, abbiamo visto un incredibile tempo nel warm up Fabuloso Andrea Fabuloso Incredibile Beh Comunque è un'ottima posizione Abbiamo visto un po' l'olms che si è mascherato sui tempi Ah, non ha tirato E qualcosa di nuovo per la gara? Niente Abbiamo avanzato un po' la moto Per avere più trazione Abbiamo messo le S e X E stamattina infatti andava subito meglio E vediamo in gara La gara è lunga 35 minuti Dobbiamo farli tranquilli Ma come sarà fare la gara con un mastino come Tony Sousa Borgia dietro Che attaccherà come un pazzo magari col costumino da bagno sotto il pantalone da moto? Ah, non lo so, vedremo Sei un grande Andrea In bocca al lupo Grazie Un saluto E anche un grande saluto in bocca al lupo a Tony Sousa Borgia e a tutto il team in quadra Grandi boys Ciao